Giacoma Limentani, Raul Pupo e Lettra Daphne Infante e i loro libri. Sentiamo. Trasuono e immagini, il sonoro nel cinema e in televisione. Praticamente io parlo di come l'avvento del sonoro ha rivoluzionato il modo di fare cinema e di impostare una storia. Parlo delle professioni legate all'audio, quindi ho intervistato fonici di cinema, di televisione, rumoristi, doppiatori che ne hanno raccontato di quando hanno inventato questo mestiere, di come poi man mano l'evoluzione tecnica li abbia anche aiutati.